Eccoci qui con Satariano, il miglior in campo della sfida che FM di Solviano hanno vinto questa sera. Allora, il ritorno dalle feste, questa vittoria, com'è andata? È una vittoria abbastanza sudata, è la nostra cominciata vittoria consecutiva, lo dico a tutti i miei compagni. È un buon gruppo, siamo in serie positive e speriamo andare avanti nel torneo. Senti, personalmente oggi la partita com'è andata? Cosa ti può aspettare? È andata bene, anche dopo le feste, un po' di stanchezza, però è andata abbastanza bene. Dedico appunto, dedico ai miei compagni, alla ragazza che sta male, che ha la febbre. Senti, per il futuro quindi a cosa punto la FM risolviamo? Vincere il torneo. Va bene, grazie. Ciao.